Bene, allora innanzitutto grazie di essere qua, so che qualcun altro arriverà. Dunque la giornata di oggi è il terzo punto di vista di quest'anno, tema chiaramente sulla professione, istruzione, formazione, professione e ricerca e nei periodici confronti che facciamo con chi fa la professione, con chi fa l'archeologo come libro professionista dopo aver incontrato l'ANA più volte abbiamo deciso giustamente di aprirci anche all'incontro con altre realtà e la CIA, la Confederazione degli Archeologi, è stata la sponda che immediatamente ci ha accolto subito la nostra sollecitazione. Dunque funzionerà così oggi, ora io dirò due parole più introduttive, velocemente, per mettere un po' di temi sul tavolo. Dopodiché passerò la parola a Alessandro Pintucci che farà una doverosa presentazione della CIA e dei vari obiettivi perseguiti e via dicendo poi si inizia la discussione sperando che non ci sia vergogna a intervenire ma che prendiate tranquillamente la parola e si possa disquisire tutti insieme. Allora io credo che, questo è il mio parere e lo dirò come al solito in maniera non politicamente corretta come mia abitudine e come sapete chi mi frequenta e mi conosce credo che il momento sia abbastanza cruciale per le archeologie in generale ma in particolare nel rapporto tra università, ministero e libera professione. Veniamo da un momento recente nel quale ad esempio l'archeologia, tra virgolette, universitaria è stata messa in forte pericolo è stata messa fortemente a rischio dalla cosiddetta circolare malnati poi in parte rientrata e via dicendo. Cioè la circolare malnati praticamente non era proprio diretta contro l'università ma in pratica avrebbe colpito di scavi delle università perché era diretta a fermare per ovvi motivi di dover corrispondere premi di rinvenimento che stavano arrivando a cifre abbastanza eccessive, si parla di milioni e milioni di euro anche se probabilmente c'era anche un pregresso mai evaso dietro, quindi non solo i premi attuali, che vedava quindi di scavare, bloccava tutti gli scavi sulla privata, ovvero il 90% degli scavi universitari. E questo ha già creato un primo momento di discussione su libertà della ricerca, rapporto università-ministero, rapporto università-ministero liberi professionisti. Poi c'è ancora in ballo una discussione che si sta tirando avanti nel tempo spesso attraverso pagine di social network, tramite reti di conoscenze, mai nei siti ufficiali ma tramite reti di conoscenze e di amicizia, eccetera, su una discussione su se l'università tutta prepara bene per la professione o meno. Con conseguenti discussioni abbastanza corrette e di toni giusti, io Pintucci l'ho conosciuto così ad esempio, nel mezzo di una discussione infocata in cui mi sono ritrovato, che finalmente poi c'era uno che commentava con toni un po' più pacati, comunque si poteva ragionare, e insomma ho cominciato a discorrere con lui. Perché è stata cancellata? Sì, sparita. Comunque io me la ricordo tutta, intervende anche Franco, eccetera. E diciamo con attacchi talvolta anche virulenti, no? Sul fatto che noi non prepariamo, secondo alcuni, ad operare sui carriere, sui cantieri. Credo che come in tutte le cose, come in tutti gli argomenti, la verità in realtà stia un po' nel mezzo e che poi non si debba fare di tutto nel buon fascio. Nel senso, probabilmente alcune università non preparano, altre di più, altre di meno, altre così e così. Comunque, è una cosa da vedere. Poi siamo entrati a dibattere anche sul fatto di chi, lo dirò in maniera terra-terra, chi è che decide che hai la patente d'archeologo? Cioè, che sei un professionista serio in un'inflazione di persone che lavorano in cantieri archeologici, a volte anche non laureati, anzi, spesso succede. Chi è che dà la patente di archeologo? Cioè, chi dice che te sei un archeologo e hai requisiti per lavorare bene e lavori bene. E su questo siamo intervenuti, per esempio, in occasione della circolare Malnati, proprio, della discussione sulla circolare Malnati e facendo morire, io per esempio sono intervenuto dicendo la mia posizione, dicendo come, che funzioni bene o male, ma abbiamo un sistema di valutazione e di autovalutazione dal quale non si scappa per i docenti, vorrei lo stesso per i rappresentanti del ministero, soprintendenze, eccetera, ma lo stesso anche per i liberi professionisti. Un sistema basato su quanto si pubblica, come si lavora, parametri da trovare, chiaramente, ma un sistema che, fra virgolette, certifichi ad ogni valutazione la bontà o meno di quello che fai, di come fa ricerca o di come scavi o di come ti muovi. Insomma, noi siamo giudicati sia dagli studenti, parlo ora come docenti, sia dagli studenti in maniera anonima, che questa cosa non mi è mandata giù, perché nella vita le responsabilità di ciò che si dice, si fa, ci si prendono. Siamo giudicati in maniera anonima dagli studenti e poi ci siamo, ci sarà questo meccanismo di autovalutazione, AVQR, dal quale non si scappa, perché se uno niente ha fatto, niente gli risulta. Quindi si autodenuncia, se non lavora, no? E così. Quindi i temi sono abbastanza caldi da affrontare. Ripeto, professionalità, professione e professionalità, ruolo delle università, ruolo anche del ministero e del rapporto con il ministero, che ognuna di queste componenti dovrà avere, potrà o vorrà avere. E poi, direi non ultimo, un altro dei temi importanti è dove andrà a finire questa benedetta archeologia. Perché i tempi, secondo me, sono abbastanza oscuri e problematici, con una grande emarginazione e marginalizzazione a livello di istruzione delle discipline umanistiche, per non parlare delle risorse beni culturali, sapete, avete sotto gli occhi di tutti, o le fasce di investimento, no? Che conosciamo. Noi siamo all'ultimo costo, ancora sotto la Spagna, nell'investimento per beni culturali e in Europa. Siamo al 77esimo e al 76esimo nell'investimento dell'istruzione. Ci passa avanti Cipro, all'Estonia, all'Ettoria, tutti, eccetera. Anche la Grecia fa più di noi. E quindi cosa faremo di questa disciplina? Perché c'è un mercato del lavoro che funziona in un certo modo o non funziona in un certo modo. Ci sono discipline che andranno a chiudere. Io non so quanto potremmo ancora sostenere lauree magistrali in archeologia, in alcune università sono chiuse, con i numeri richiesti, con la crisi economica c'è, i tassi di iscrizione che abbassano e via di cento. Quindi che fine farà anche l'archeologia? Perché noi probabilmente un giorno non insegneremo più archeologia perché verranno chiuse le lauree magistrali in archeologia. Però contemporaneamente anche quelli che fanno la libra professione avranno, come si dice, un bacino di rinnovo estremamente limitato sino ad esaurirsi. A meno che non si prenda il primo bischero e si mette a lavorare su un cantiere, cosa che spero non succeda vista la qualità che sarebbe richiesta su un contesto del genere. Non so se mi sono scordato o ricordato tutto quello che volevo dire o accennare, ma i temi direi sono questi. Con questo se Enrico e Franco volessero accennare qualcosa, altrimenti passo la parola subito a Alessandro per una presentazione che ha preparato in powerpoint. Devo parlare a Boccialta se non mi sentire. Intanto grazie per averci invitato, in questo caso dobbiamo essere due oggi e invece per fortuna il mio collega mi ha dato buca ieri alle 9 di sera perché aveva un cantiere che ripartiva, almeno lavora diciamo, mettiamola così. Quindi farò da punch in ball in realtà da solo. Grazie per averci invitato perché in effetti la situazione, come prima accennava il professor Valenti, è molto ingarbugliata in questo momento. C'è una situazione politica che sicuramente non fa sperare dal punto di vista delle riforme, dei cambiamenti di cui avremmo bisogno. In ogni caso c'è un problema che si trascina ormai da anni. L'associazione, io ho portato un powerpoint e un po' le perline colorate, una specie di curriculum visivo di quello che abbiamo fatto da quando siamo nati nel 2004 ad oggi, ma lo farò vedere velocemente, non mi voglio annoiare. Semmai tempo appunto per le domande e per la discussione. Ci sono due o tre slide che mi interessavano in cui ci sono dei dati numerici anche sugli archeologi, su cui magari possiamo discutere proprio anche in riferimento agli argomenti. Noi siamo nati, ti hai visto che devo vendere l'associazione, ma non parte e questo non gli piace. Questa è la tecnologia attuale dell'Università di Sino. Vabbè, ma noi siamo fiduciosi e attendiamo. La cosa interessante che riuscita è la grande differenza tra l'archeologia che si faceva nel territorio della provincia, quindi in un contesto extraurbano, e l'archeologia che si faceva a Roma. Roma rispetto ad altre città, a parte Napoli in questo senso, ha una sorrintendenza che riguarda solo ed esclusivamente la città in quanto tale. Più c'è la sorrintendenza del Lazio per la parte diciamo meridionale, più Rieti, più c'è la sorrintendenza per l'Etruria meridionale che invece riguarda diciamo l'Etruria appunto, quindi dalla provincia di Viterbo fino alla Toscana. Più, aggiungo, fino ad oggi c'è stata una sorrintendenza che riguardava semplicemente Ostia e Porto, quindi Fiumicino. Quindi capite, c'era ovviamente c'era un interesse e un'attenzione differente per quello che era il territorio del comune di Roma e per quello che era la provincia. Vi dico soltanto un numero, insomma, diciamo che la media degli scavi per chilometro quadrato a Roma è appunto di 5,61-71 nel quinto municipio, in uno qualunque dei municipi di Roma in questo senso, e 0,11 scavi per chilometro quadrato nella provincia di Roma. Capite che è una differenza pazzesca e il mercato di Roma da questo punto di vista dell'archeologia emergeva in maniera molto forte, quindi molti dei giochi anche quando si sono fatte anche leggi di tutela sull'archeologia preventiva, sono passati anche per questo elemento. Una cosa importante è la, diciamo che il MIBAC dava nel 2011 per Gli Stati Generali di Pesto mi aveva dato il numero di 7.000 scavi in tutto, che erano praticati in Italia, sostanzialmente noi avevamo censito di fatto il 5% di quegli scavi, con un territorio che era credo l'1,61%, una roba del genere dell'intero territorio italiano, quindi comunque una preponderanza molto forte. Questo progetto, ripeto, queste sono tutte per linee colorate, abbiamo fatto dei corsi, l'altra questione molto importante per l'associazione è la formazione professionale extra-universitaria. L'università, secondo noi, deve preparare ad essere archeologi, questo non significa non utilizzare evidentemente i GIS, il CAD, eccetera, però il punto fondamentale è che insegni a fare l'archeologo, che poi lo insegni con le tecniche moderne, con gli strumenti che sono a disposizione oggi, l'informatica, eccetera, è scontato perché sarebbe impensabile il contrario, però certamente le associazioni professionali possono avere un ruolo dal punto di vista, diciamo, del, come posso dire, il tappare quei buchi nella formazione dei professionisti che possono servire invece nello svolgimento della professione. Dicevo prima dell'archeologia preventiva, quella è la legge che cambia la professione in Italia dal 2005 ad oggi, uno degli elementi fondamentali di quella legge comunque parla di cartografia, di produzione di carte, comunque del rischio archeologico, del potenziale, eccetera, per fare le carte non si può andare in giro con i pezzi di carta, con i pallini colorati con i pastelli, evidentemente è qualcosa di vagamente superato e che evidentemente non si può dare come novità né come elemento su cui basare una disciplina seria, per cui c'era l'esigenza di fare formazione, per esempio, ai professionisti per quanto riguardava i sistemi informativi territoriali, che erano qualcosa di soltanto letto sui libri ma mai applicato, quindi abbiamo fatto una serie di corsi su questo. Vado veloce qui perché non ci interessa, queste sono un po' di tavole rotonde che abbiamo organizzato negli anni, queste sono anche sovrapposte ma non importa. L'ultimo convegno, questo mi ci fermo un secondo soltanto e poi chiudo perché semmai poi gli altri numeri che vi dicevo li do dopo, è un convegno che abbiamo fatto adesso a metà marzo che si chiama Discovering Archaeologists of Europe, Digging in the Crisis ed è legato a un progetto europeo in cui siamo entrati come associazione dal 2011, diciamo dal 2012 realmente, è la seconda edizione di questo progetto, è molto importante perché è una sorta di censimento in qualche modo degli archeologi d'Europa dal punto di vista numerico ma soprattutto delle condizioni della formazione. L'elemento fondamentale poiché appunto è tutto legato alla nuova edizione soprattutto al tema della crisi economica e questo ci ricollega anche al tema del giorno, quindi l'archeologico nel tempo della crisi, poiché legato a questo la domanda fondamentale a cui cercheremo di rispondere evidentemente con questa ricerca è la formazione dell'archeologo è determinante nell'uscire dalla crisi, cioè chi si salva dalla crisi, l'archeologo più formato o quello che abbassa il prezzo delle proprie prestazioni? Allo stato attuale se uno vedesse soltanto esteriormente la situazione in realtà sembra che si salva quello che abbassa i prezzi, dopodiché non vive, quindi c'è un problema. Quindi rispetto, e poi l'altra cosa fondamentale è che parla di Europa, cioè uno dei limiti fondamentali secondo me insomma di come abbiamo sempre approcciato al tema della professione in Italia, non solo archeologica ma in generale, è quello di essere molto chiusi sul mercato italiano, cioè su come funziona l'Italia, senza tenere in conto il fatto che ovviamente noi siamo inseriti intanto in un contesto europeo, le cui leggi comunque sono superiori rispetto a quella italiana, lo vediamo insomma è argomento attuale, non sempre è meglio, diciamo sono superiori a quella italiana però è un dato di fatto. Quindi gli altri paesi europei che certamente hanno delle situazioni di crisi economica o comunque anche di formazione, insomma di archeologia simili alla nostra o comunque comparabili, come hanno reagito, come stanno reagendo alla situazione di crisi? Negli altri paesi conta la formazione dell'archeologo, cioè viene cercato l'archeologo migliore, quello che è in grado di svolgere bene il proprio lavoro nel minor tempo possibile per esempio, a proposito dei criteri per giudicare ad esempio. Questo dovrebbe essere il tema su cui ci dobbiamo confrontare, ci sono 20 paesi che ne fanno parte, quel convegno di cui vi parlavo prima si è svolto a Roma alle termine di Eucleziana, hanno partecipato a una serie di paesi, mi dispiace non avere, però ve le faccio vedere perché le stiamo mettendo sul sito tutte quante le slide che erano state proposte durante il convegno, l'intervento di Alessandro Vanzetti che da buon preistorico di formazione peroniana è tassonomico nell'intervento, per cui aveva sciorrinato una serie di dati molto interessanti invece sul tema della formazione, sul numero di iscritti, su come è calato il numero degli iscritti nelle facoltà umanistiche rispetto a quelle scientifiche negli anni della crisi, sulla spendibilità dei titoli universitari e post universitari e quello magari è interessante comunque almeno averli per dargli un'occhiata insomma. Io mi fermerei qui perché quelle sulle dopo sono appunto, se avete domande poi sulla professione, sono un po' di numeri sulla professione, non so se forse li vengono davanti, sono due, non è una roba... Eh, ve li do, ve li do. Allora, questi sono il numero di imprese qualificate con l'OS25 in Italia, questa è una ricerca che avevamo fatto noi partecipando appunto agli stati generali dell'archeologia di Peston del 2011 organizzati da malnati. Ci sono 436 imprese, almeno nel 2011 c'erano 430, più chiaro perché nel 2013 ci saranno molte meno purtroppo, 436 imprese qualificate ad eseguire scapi archeologici in Italia, quindi con l'OS25. Attenzione, non sono tutte le società o le imprese che in Italia fanno archeologia, perché l'OS25 è un requisito fondamentale per importi superiori, se non mi ricordo male, oltre 150 mila euro, credo. Adesso anche per svolgere attività di archeologia preventiva, diciamo per quello che è l'articolo 96 dei lavori pubblici, senza l'OS25 non si può scavare per gli scapi riguardanti quel pezzo di legge. La cosa interessante che usciva è che l'89% di queste imprese ha sede tra il centro e il sud e le isole, quindi un dato molto forte rispetto al nord che è rappresentato solo dall'11%. Questo dato ovviamente può essere confusato in ogni momento perché nessuno di noi pensa che al nord non si faccia archeologia, quindi il tema è che c'è un mercato preponderante che è quello del centro-sud e al nord c'è una preponderanza invece di società che non hanno l'OS25, quindi sono delle società che partecipano tendenzialmente a delegare d'appalto più basse, ce ne sono tantissime naturalmente. Altri dati, vi parlavamo prima del concorso degli archeologi del 2008, quelli forse sono i primi e unici numeri reali di archeologi che noi possediamo, sui quali possiamo ragionare. C'erano 5.551 archeologi altamente formati nel 2008 che si iscrissero al concorso per funzionare archeologo, significa che questi erano o specializzati o dottorati, altrimenti non si sarebbero potuti iscrivere a quel concorso. Poi c'erano 15.000 persone che si iscrissero al concorso da custode per aree e musei archeologici. Ovviamente non sappiamo quanti, ma certamente moltissimi di quelli erano degli archeologi che non avevano trovato lavoro altrove o comunque avevano ritenuto di provare quantomeno un concorso e anche altro, io per primo, per essere chiari. I numeri dell'università e del ministero più o meno sono simili, sono tra i 350 e i 400 archeologi che lavorano nell'università e altrettanti nel ministero. Un numero molto basso rispetto ai 300.000 km2 di territorio, ai 4.739 musei archeologiche da gestire del tutto il territorio nazionale e ai 5.668 vincoli, parlo sempre di dati del 2011 naturalmente, quindi prendetele con grano salis, da gestire. Quindi un numero molto basso. Questo è per dire come c'è una fortissima preponderanza di archeologi esterni al ministero e all'università rispetto a quelli che in realtà poi gestiscono quegli stessi lavoratori, quegli stessi professionisti esterni. Questo sbilanciamento di numeri comporta, e questo anche eccesso di numeri, si diceva prima dei numeri delle iscrizioni, questo è un tema fondamentale. Nel 2011 erano 7.000 gli interventi effettuati, quei 7.000 interventi erano interventi che spesso e volentieri sono fatti dalla stessa persona, perché magari la continuazione di uno scavo è la persona che finisce un cantiere e va a un altro cantiere. Quindi se voi pensate che solo di archeologi specializzati e dottorati c'erano circa 5.500 persone, 7.000 erano gli scavi, e quindi dobbiamo immaginare almeno 10.000 archeologi o triennali, o diciamo con la laurea triennale, o con la vecchia quadriennale, o con la specialistica. Diciamo grosso modo un numero doppio rispetto a dottorati e specializzati ci sta come numero. Siamo su un numero che uscilla tra i 12.000, 13.000, 15.000 archeologi operanti. Su un bacino di lavori, ovviamente alcuni lavori sono più grandi, quindi richiedono più archeologi, questo va da sé, però sono 7.000 operazioni di scavo in svolgimento in Italia. Quindi c'è un problema di eccesso di numero che è abbastanza sotto gli occhi di tutti. Quindi il tema della formazione, non solo dell'eccellenza o della qualità della formazione, ma anche di quanti ne mandiamo in giro di archeologi, di quanti archeologi ha bisogno il Paese, è un tema su cui io credo il Ministero in primis, ma anche l'Università e i professionisti si dovranno interrogare. Credo, queste sono le tre proposte di legge, appunto parlavamo prima della tutela della professione, velocissimi, la riproposta della legge Matia, perché era stata proposta nel 2008, sono cambiate alcune cose, l'abbiamo riproposta adesso, la legge Matia semplicemente inserisce la figura dell'archeologo all'interno del codice dei beni culturali. Dico semplicemente ma neanche troppo, fino ad oggi la parola archeologo non sta in nessuna legge, se non in un regolamento particolare, che è applicato più o meno zero, ancora purtroppo molto poco applicato, e quindi semplicemente dire che gli scavi archeologici li fanno gli archeologi, che è una banalità se vogliamo, è invece una cosa che cambia molto le cose, dicevamo prima, molte persone che scavano non sono neanche laureate, sì, non solo, io ci aggiungo che la Sorintendenza di Roma ha recentemente promulgato un bando, diciamo, per collaboratori esterni della Sorintendenza, in cui i rilievi archeologici non li possono fare gli archeologi, ma solo architetti, ingegneri e geometri. Allora, voi capite che diventa un problema, io faccio il rilevatore di mestiere, diciamo, quella è la mia formazione, faccio questo, quindi sono preoccupato della questione. Altra proposta, dopo l'approvazione della legge sulle professioni, che riconosce le associazioni professionali a fianco degli ordini professionali, quindi per quelle professioni non tutelate da albo ordine, le associazioni, diciamo, assumono un ruolo. Una parte della legge prevede la stesura della norma 1, la norma 1 è semplicemente una sorta di prontuario di ciò che può fare il professionista, nella fattispecie l'archeologo, quindi quale archeologo può fare questo, quale archeologo può fare quest'altro. Questa è una cosa su cui io credo sia importante, noi la stiamo scrivendo insieme ad altre due associazioni, perché gli archeologi, come sapete, non sono solo ANA e CIA, ma c'è CNAP, FAP, c'è un'associazione appena nata in Emilia Romagna, ce n'è stata una in Sicilia, insomma, siamo spiritosi in questo senso, perché noi abbiamo bisogno di unirci, ne creiamo cinque, diciamo, sono un po' particolari. Però, insomma, con CNAP e FAP, questo è importante, stiamo collaborando per scrivere questa norma 1. Io credo che questa norma, che dice cosa può fare l'archeologo, sia uno degli elementi su cui ci deve essere il confronto con le università e con il ministero. Cioè non è pensabile che la scriviamo da soli, perché ci siamo alzati, un giorno abbiamo deciso cosa fa l'archeologo, questo è determinante, perché cosa può fare un archeologo e quale formazione deve avere? Si porta dietro la forma di formazione, scusate il gioco di parole, che deve avere l'università, in qualche modo. Ultima cosa, questa riguarda soprattutto le valutazioni di impatto archeologico, ma non solo, l'archeologia preventiva, è una sorta di regolamento. Questa forse è la cosa più importante, come la vedo io, su cui bisogna battere veramente forte, perché si diceva prima, come si giudica un professionista? Come posso giudicare? Se non ci sono dei criteri standard a cui io mi devo riferire per fare una documentazione archeologica, il rilievo fatto in un certo modo, la scala fatta in un certo valore, la documentazione, che cosa deve contenere, le schede OS devono essere consegnate, la documentazione, la relazione archeologica che noi consegniamo, che cosa deve contenere imprescindibilmente. Se noi non abbiamo questi standard, che in altri paesi invece sono stati promulgati, sono stati prima discussi e poi tirati fuori, è molto difficile giudicare la qualità di chi lavora. È chiaro che anche questi standard, su questo per fortuna il direttore Malnati è non solo disponibile, ma è un bravo politico in questo senso, perché sulla prima parte della legge dell'archeologia preventiva, anzi sulla seconda parte, sull'articolo 96, è stata emessa una circolare che poi è diventato regolamento attuativo, in cui si dicono sostanzialmente quali sono gli step per l'applicazione di quel decreto, che cosa bisogna fare, come bisogna farlo, come va organizzato un cantiere, eccetera. Manca, era stato scritto, e per fortuna cancellato, perché aveva una serie di problematiche non indifferenti, era stato scritto un regolamento che riguardava la prima parte della legge, l'articolo 95, quindi quella proprio relativa alla valutazione di impatto archeologico, quella relativa alla documentazione archeologica. Quella parte va riscritta, cioè va detto esattamente il ministero che cosa vuole che venga consegnato per avere una buona relazione archeologica, che cosa vuole, quali piante devono essere consegnate, su quale cartografia, con quale proiezione, noi oggi ancora lavoriamo con le caosboaga, perché i comuni italiani sono ancora sulle caosboaga, e nel frattempo è cambiata la legge da questo punto di vista, le caosboaga sono fuori legge, adesso si usa RRTF, non mi ricordo mai. Questi temi sono centrali, perché senza questi temi non possiamo parlare di professione, non possiamo sapere che archeologo dobbiamo formare e come giuricarlo. Basta, mi azzitto, questo era un cicero prodomo suo che ovviamente lascia il giudizio. Io ho concluso, quindi sono disponibile a domande e a tutto. Mi paro solo solo. E' tutto chiaro, è bellissimo. Va beh, allora vado. Perfetto. Io ho tre professori vicino, se dico una parola fuori posto sono morto, lo sapete, è vero? Io penso che uno dei problemi fondamentali della riforma del 3 più 2 e poi le successive diramazioni a Y e varie cose meravigliose che ci hanno proposto negli ultimi anni è stata una trasformazione della nostra disciplina che era comunque umanistica. Noi eravamo degli storici che utilizzavano determinati strumenti, qualcuno dirà ma l'archeologia come l'antropologia, bene, però secondo me noi siamo degli storici che fanno storia utilizzando determinati strumenti che sono proprio della disciplina archeologica, quindi lo scavo, la ricognizione, lo studio dei materiali, eccetera, eccetera. Quindi siamo degli umanisti e il senso di quello che facciamo, oltre a, e quello dovrebbe essere centrale nella cosa, la comunicazione all'esterno perché noi non lavoriamo, non dovremmo lavorare per noi ma evidentemente per restituire quei soldi pubblici che prendiamo negli scavi, in quello che facciamo, alla cittadinanza, cioè ai veri proprietari dei beni culturali, dei beni archeologici, quello che abbiamo studiato, fatta questa premessa. Siamo però degli umanisti, la trasformazione del 3 più 2 secondo me ha avuto il limite di trasformare la formazione universitaria in troppo tecnica, cioè è inutile che tu mi fai fare un esame di mineralogia di 30 pagine in cui io non imparo la mineralogia, non me ne frega niente della mineralogia e non la potrò applicare. Molto meglio che io sappia quando devo chiamare un geologo per fare un certo tipo di studio, quindi dammi delle infarinature all'interno di, non lo so, un insegnamento di metodologia su quello che serve per quando devo chiamare un geologo, piuttosto che quando devo chiamare un botanico, un palinologo, eccetera, eccetera. Dopodiché, e quindi, quindi prima questione, saperi troppo tecnici e uno svilimento in qualche modo dal punto di vista della capacità di leggere, di studiare, di elaborare quello che facciamo. Ovvio, alcune università si sono regolate in modo tale da bypassare il problema, io però parlo dell'impianto generale, come l'ho visto, e personalmente l'ho visto essenzialmente all'Università di Roma, vengo da lì, ho girato le università, ma è evidente che con una riunione come quella di oggi non posso avere cognizione di come viene studiata l'archeologia a Siena, a Genova o da altra parte. Quindi io a Roma l'ho visto applicata in questo modo, da domani ci sono tot crediti da fare, il tema con cui mi formo è quello dei crediti, quindi io se vado oltre i quattro crediti non vado avanti, ho studiato le mie 30 pagine considerate per quel numero di crediti, per me va bene così, e quindi primo problema. Dall'altra, questi saperi tecnici, proprio perché sono stati sminuzzati in moltissimi rivoli, spesso e volentieri comunque non ti mettono nelle condizioni di stare su un cantiere, anche se io mi laureo alla fine in palinologia, io ho una perversione sulla palinologia, mi chiedo quanti palinologi potranno servire in Italia per tutti gli scavi che abbiamo, o purtroppo quanti archeozoologi anche servono, è determinante come disciplina su alcuni tipi di cantieri, ma quante volte un archeozoologo viene chiamato? Allora, il punto è che tu non puoi essere un archeozoologo, tu devi essere un archeologo che si è formato anche, e si è laureato magari in archeozoologia o in palinologia, ma di formazione di base, tu devi avere degli strumenti che ti consentono di rivenderti il tuo titolo, qualunque sia la materia in cui ti sei laureato, quindi compreso il rilievo. Io non posso pensare di essere un archeologo che vive soltanto facendo rilievi e topografia, perché evidentemente nel momento in cui c'è una contrazione del mercato come quella attuale io sparisco, non servo a nessuno, vado a fare gli accadastamenti, non è evidentemente questo, io sono in grado di scavare, perché nella mia formazione sono comunque andato sugli scavi, ho imparato a fare le schede US, sono in grado di riconoscere uno strato, di metterlo insieme, eccetera. Dopodiché il mio mestiere è il topografo, il rilevatore, il disegnatore, studio i monumenti romani, bene, ma io devo essere in grado di stare su un cantiere e di capire quello che funziona, quello che succede. Quindi è difficile dire, io non credo che ci sia una materia, per dire, in Italia a che cosa dovrebbero servire gli orientalisti, dovrebbero essere tutti morti di fame, perché quanta gente può lavorare al Museo d'Arto Orientale di Roma o alla Sorintendenza di Torino, dove c'è comunque un comparto molto importante di egittologia, pochissimi, eppure gli orientalisti, penso appunto, ripeto, parto sempre da Roma, con Mattia, io ho decine di colleghi laureati in orientalistia, non dovrebbero lavorare, i miei colleghi, insomma, chi si forma, sono degli archeologi. E tutto sommato il tema anche dell'area in cui ci si è formati, soprattutto dal punto di vista della cronologia, è un tema tutto italiano, cioè le nostre divisioni storiche per epoche, con cui abbiamo costruito ed è costruita in effetti l'Università Italiana, i protostorici, gli etruscologi, è già lì difficile dire chi è l'uno e chi è l'altro, i classicisti, un classicista possibile che non scava, che non gli capiterà mai di scavare un contesto etrusco e viceversa, ma io per arrivare allo strato classico, però passare per quello medievale, cosa faccio? Non sono formato in archeologia medievale. Diciamo che è tutto un tema molto italiano e tendenzialmente, per esempio, in Inghilterra farebbe ritere a chiamare Colin Renfri un archeologo preistorico. Colin Renfri è un archeologo che poi se si è occupato di preistoria del vicino Oriente per tutta la sua vita lo rende un esperto di, ma è del tutto in grado evidentemente di scavare a Londra, a Cambridge, dove gli pare a lui. Quindi io credo che la prima questione sia avere un forte bagaglio tecnico ma inteso, è difficile definire, tecnico ma umanistico, non lo so, un fortissimo bagaglio archeologico alle spalle. Dopodiché qualunque cosa si faccia, cosa è richiesto? C'è stato un periodo in cui sono andati di moda i diagnosti dei beni culturali, i chimici dei beni culturali. Io oggi con la crisi sfido chiunque a stare dietro in cantiere di archeologia d'emergenza, a porre, a posare i tubi dell'italgas e di resto, però servirebbe un chimico dell'archeologia perché dobbiamo fare un'analisi, è evidente che non ci sono proprio, a Roma c'è un mercato che va dai 40 euro al giorno, che è drammatico, ai 250 al giorno, ma chi l'ha mai visto queste figure specifiche? Le ho viste come archeologi, cioè erano lì presenti come gli altri colleghi, come degli archeologi normali, come dire. Poi ci sono dei contesti invece, e questo forse ci aiuterà, speriamo, l'archeologia preventiva perché è stata costruita quella legge anche per consentire, diciamo, di studiare quello che si scava. Ci saranno dei contesti in cui invece è possibile applicare quella formazione specifica che uno ha, che rimane quel bagaglio, però di base uno deve essere un archeologo. Non so se ho risposto, non credo, però ci ho provato. Forti basi metodologiche, diciamo, via, non volevo... Grazie. 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 cose utili che hai detto tu e che invece sono la parte sui numeri, ma è una parte che ci deve far pensare. Proviamo a partire da lì. Prima parte da una cosa che voglio dire in assoluto, in generale, ed era questa, è passato un anno dall'incontro che abbiamo fatto nel 2012 con l'ANA, esattamente un anno, che cosa è successo in quest'anno? In quest'anno sono successe cose molto negative, nel senso che la crisi si è avvitata, quindi sono successe cose negative dal punto di vista macroeconomico e generale e sono successe anche delle cose negative dal punto di vista sociale, direi, perché la crisi si è avvitata anche dal punto di vista delle relazioni sociali all'interno del nostro Paese e la crisi si è incattivita, la vicenda politica di queste settimane, di questi mesi ci ha raccontato tutto. Questo è un elemento molto negativo ovviamente perché fa mancare l'interlocuzione, in questo momento noi abbiamo sicuramente degli interlocutori deboli dall'altra parte, cioè se gli interlocutori sono gli amministratori della cosa pubblica, cioè i politici, la politica in questo momento è estremamente deboli e questo non è una buona cosa, c'è un politico accanto a noi. In questo c'è un aspetto, la crisi si è incattivita e quindi se è possibile sono peggiorate le condizioni di vita e di lavoro degli archeologi, è difficile forse dire si lavorava peggio o si guadagnava ancora meno, più o meno in questi ultimi due anni, però a Nasio è andata così. In questo io vedo però un elemento di positività, nel senso che in quest'anno alcune cose positive sono successe, secondo me almeno, io sono quello che passa per essere un inguaribile ottimista. Intanto è successo che c'è stato un aumento di visibilità complessiva del problema degli archeologi e soprattutto dei giovani gli archeologi. Questo per merito essenzialmente delle associazioni di categoria, essenzialmente delle associazioni degli archeologi, che hanno perseguito due strade, almeno due strade mi pare di dire diverse. L'ANA mi pare che sia andata molto di più sull'aspetto della rivendicazione da piazza, fra virgolette. Mi ricordo di aver parlato con un megafono, detto più o meno queste cose con un megafono davanti al Pantheon e diciamo erano molti anni che non mi capitava e la SCIA mi pare che sia andata invece dietro a questo progetto molto interessante di questa dimensione europea e poi ovviamente è una schematizzazione molto netta, tutte e due hanno fatto ambedue le cose in realtà, però diciamo questi due elementi, la piazza nell'interno e l'inserire il problema della crisi dell'archeologia italiana nella dimensione europea mi sembrano due elementi positivi, molto positivi e ne vediamo dei riscontri perché degli archeologi si parla, si parla molto di più di quanto si parlasse prima. Mi è capitato l'altro giorno per caso, è uscito, era domenica credo, un piccolo dossier della stampa di Torino, in questo momento io e la stampa siamo in buonissimi rapporti, la stampa di Torino sulle professioni atipiche e sulla situazione giovanile e tra le figure professionali di atipicità c'erano i giovani avvocati, c'erano i giovani statistici, c'erano, non mi ricordo più quali altre cose e c'erano anche i giovani archeologi. Questo mi sembra un elemento positivo perché se si riesce, lasciate fare perché poi ci sono delle dinamiche sempre interne per cui vengono fuori queste cose, però se gli archeologi cominciano a diventare un elemento di cui si discute sulla stampa nazionale a vari livelli, insomma mi pare che questo elemento sia un elemento positivo e da questo punto di vista non dico anche che l'iniziativa del direttore generale Malnati del convocare gli stati generali dell'archeologia è stata tanto un po' così, diciamo un po' improvvisata, la parola non è quella giusta, quanto poi in realtà ha prodotto dei risultati e quindi quando le cose si muovono sono sempre contento. Quindi diciamo questa è secondo me la situazione e questa situazione però si è venuta a poggiare su un progresso che è un progresso molto lungo, che sono i numeri che il nostro amico Pintucci ci dava e che sono numeri che fanno riflettere. Allora, intanto come siamo arrivati ad avere 15.000 potenziali archeologi da campo o da ministero in Italia? Ci siamo arrivati per una serie di ragioni, alcune delle quali totalmente condivisibili, perché il 3 più 2 tanto discusso è in realtà una legge buona, se vista in una dimensione sociale è una legge che io non mi stancherò mai di difendere, perché ha portato in buona sostanza dentro l'università fasce sociali che prima dentro l'università non ci andavano. E quando vediamo, non conosco i numeri di cui parlavi di Vanzetti, Vanzetti è un caro amico, è uno anche molto puntuale quando lavora, e questi numeri che io non conosco, cioè del decremento degli iscritti, devono anche essere contestualizzati nel clamoroso incremento degli iscritti nelle facoltà umanistiche che c'è stata a partire dal 2000. In questo momento io credo che solo adesso, ma forse solo adesso, con la crisi strutturale dell'università di Siena che tutti quanti conosciamo, solo adesso gli iscritti a lettere a disciplina umanistica di Siena sono tornati ai livelli di prima del 2000, perché dal 2000 al 2005 c'è stata un'impennata verticale degli iscritti, nel primo anno tutti quanti ci siamo dati le pacche sulle spalle, ci sembrava di essere diventati bravissimi, perché avevamo aumentato improvvisamente del 70% i nostri iscritti. Non eravamo diventati bravi, avevamo aperto le frontiere a una popolazione che prima non pensava di iscriversi all'università. Quindi questo è il problema. È chiaro che quando tu fai un'operazione di questo genere, che socialmente è assolutamente condivisibile, perché in termini proprio macroeconomici, macroscopici, se tu tieni delle persone in un processo formativo, metti in un processo formativo delle persone che prima non ci sarebbero entrati, il tuo sistema paese comunque ha delle persone più formate e questo è un valore economico. Lì si apre un problema, si apre il fatto che se poi tu pensi che queste persone che si sono formate debbano necessariamente trovare lavoro nella disciplina, nell'ambito disciplinare in cui si sono formati, e lì chiaramente hai un problema di prospettive, di delineare delle prospettive. Lì la prima cosa da fare è non correre il rischio di assumere in nessuna maniera, ma dietro a nessun pensiero, delle posizioni protezionistiche, del dire quanti archeologi servono, quanti archeologi formiamo, perché entriamo in una dimensione veramente molto rischiosa, perché altrimenti si rischia, perché se cominciamo a fare questo tipo di discorso, cominciamo a collassare interi sistemi di partecipazione democratica e di possibilità di accedere alla formazione. Se cominciamo a mettere dei paletti di entrata dentro le università è un disastro, è un disastro assoluto, quello bisogna evitarlo come dire come una peste. semmai bisogna interrogarci su come fare in modo che, fermo restando, che le situazioni di occupazione in Italia sono quelle che sono, e che quindi in questo momento è utopistico pensare che diciamo abbiamo 15.000 archeologi disponibili sul mercato, troviamo lavoro per 15.000 persone, altrimenti si direbbe, scusate, ma allora agli ingegneri che gli facciamo fare, cioè il problema di occupazione c'è in Italia in questo momento, di occupazione giovanile c'è in Italia. Allora, lì si tratta di capire, dentro dei termini di ragionevolezza, che cosa si può e si deve fare. E lì l'unica cosa da fare non è diminuire il numero degli archeologi formati, ma di aumentare il lavoro in archeologia. Allora abbiamo bisogno di più archeologia. Come si fa ad ottenere più archeologia? Bella domanda. Beh, intanto, qualche cosa è stato fatto perché si sta cominciando a parlare sempre di più, in maniera sempre più convinta, direi, di archeologia, di passato, di patrimonio culturale, fra virgolette come petrolio italiano. Bruttissima definizione, ma un brividone di freddo, tutti quanti ce l'abbiamo, ma forse lì dobbiamo cominciare a pensare. Noi dobbiamo cominciare a pensare, a avere noi degli argomenti per smontare questo tipo di idea, e di avere noi un'idea di economia dei beni culturali che possa essere gestita e che possa essere, come dire, discussa e se vogliamo anche in qualche maniera imposta. Lì mi pare che siamo nella grandissima questione. Da lì discende poi più o meno tutto. Poi tutto il resto è facile. Non ce l'abbiamo perché noi abbiamo un sistema che si è storicamente configurato in un certo modo perché ci hanno lavorato sopra delle entità che non si sono mai parlate tra loro. In questo momento noi abbiamo almeno tre entità nel sistema dei beni culturali. Abbiamo il ministero, abbiamo le università e abbiamo le associazioni professionali. Queste tre entità non si sono mai parlate troppo tra loro, non sono mai riusciti a parlarsi troppo tra loro, colpevolmente, soprattutto da parte di quelli più forti, cioè il ministero e l'università. Meno male che ci sono le associazioni di professionisti perché adesso ci è creato lo spazio per provare a riflettere. Il quarto interlocutore è l'interlocutore politico e questo è il problema gigantesco secondo me in questo momento in Italia. Tutto il resto viene da lì, poi in buonissima sostanza. Io vedo a occhio, nei numeri che tu hai dato, alcuni clamorosi problemi. Intanto in Italia ci sono 436 imprese con un S25, quindi in realtà possono essere molte di più. Questo è economicamente un problema. La frammentazione del mercato è evidentemente un problema perché più sei piccolo e più sei schiacciato dal mercato. Questo vale per gli archeologi professionisti e vale per le università. è esattamente la stessa cosa. O noi riusciamo a trovare il modo per cui siamo massa critica dentro la professione, dentro l'università, mettendo insieme università e professione, dentro il ministero e mettendoci insieme anche il ministero, o la piantiamo di farci le guerre, le ripicchine, le stupidaggini, oppure siamo tutti del gatto. Primo, vedo che l'89% stanno al centro-sud isole e l'11% stanno al nord. Questa è una cosa che mi fa piacere che tu ci abbia dato dei dati così concreti. È una cosa che chi sta in questo mondo annusa. È vero che ci sono piccole imprese al nord, ma è vero che ci sono anche macro imprese al nord. Allora, lì c'è un meccanismo economico, quindi forse da questo punto di vista, tra virgolette più sano, insomma. Perché questo è il grande problema. Che ci siano 118 imprese a Roma è surreale, assolutamente surreale. Ancora più surreale che ce ne siano 57 a Napoli. Allora, vuol dire che lì c'è stato un problema di formazione che è fallito clamorosamente. Cioè noi non siamo riusciti a dare una informazione fondamentale che manca. Direi che forse fra tutte le informazioni che l'università non riesce a dare è la formazione economica. Attenzione, quelle imprese sono la S25, quindi non è detto che siano società archeologiche. Certo, sono società. Sono le imprese edili che hanno preso quella qualifica. Che però in quel momento sono in grado di mettere in piedi. Sono quelle del meccanismo. E poi sono le imprese che hanno sono in grado di comunque di mettersi su quel mercato lì. Quindi diciamo, abbiamo un mercato troppo frazionato. Un mercato che va... Di scarsa qualità. E a quel punto la scarsa qualità è garantita e assicurata dal frazionamento. Non solo, ma l'OS25 non richiede che l'impresa abbia per esempio operai specializzati. Gli assumerà al momento buono. Al prezzo che deciderà. Allora, lì abbiamo il clamoroso problema. L'altro clamoroso problema sono i 4739 musei in Italia. 4739 musei in Italia. Penso che 500 abbondanti e forse 800, forse Franco ha qualche informazione più di me, siano in Toscana. e quelli sono un problema perché non abbiamo la possibilità. Io non penso che dobbiamo chiudere i musei, ma forse dobbiamo accortarli in delle entità amministrative un pochino che siano in grado di gestire questo fenomeno. Perché altrimenti mi pare veramente un fenomeno in cui non si può intervenire. Le cose da fare secondo me sono essenzialmente una. Intanto capire perché è stato fatto questo. Finché non riusciamo a dircelo con molta chiarezza, ma con molta nitidezza. Tu prima dicevi rispondendo a una domanda paradossalmente all'università bisognerebbe insegnare metodologia oppure all'interno di una metodologia anche. Io sono insegno metodologia e non mi sento per niente come dire detentore di un sapere. Oggi come tutti quanti sapete facciamo fatica a creare una consulta unitaria degli archeologi perché gli archeologi pensano di continuare a gestire i loro micro-micropoteri nei loro angoletti per cui abbiamo 400 archeologi dell'università divisi in quante consulte? Sette o... No, almeno ci sono... Vai, insomma un numero. Quanto più metodologi e piccola cinque? No, i metodologi non ci sono come consulta. No, ci sono preistorici classicisti, metodologi e topografi. Medievistici e topografi. Insomma, questi sono i numeri diciamo un po' un po' surreali. Cioè 100 persone che parlano di archeologia in Italia a 100 per volta. Cioè una cosa veramente ridicola. Le associazioni non stanno messe poi molto meglio nel senso che... In linea col paese. In linea col paese. Diciamo, diciamo, il nostro paese quanti sono i partiti che siamo presentati alle elezioni non lo so più. Insomma, credo che noi però tutti quanti dobbiamo provare a parlarci e a fare... Mi sembro letta, no, adesso a dire cerchiamo di stare insieme. però obiettivamente mi pare che questo sia la cosa da fare. Essenzialmente mettere al centro di tutto l'aspetto economico. Inventare noi, rilanciare noi una proposta economica sui beni archeologici. la proposta economica sui beni archeologici passa dal proprio riattribuire valore ai beni archeologici nella percezione collettiva. Questo è l'elemento fondamentale. Se si tratta semplicemente di spostare i consumi, non stiamo parlando di cifre pazzesche. Mi lancio al volo in un conto su due piedi. Allora, mettiamo che vogliamo dare da mangiare a 5.000 archeologi in Italia. Faccio un conto assolutamente strampalato. Lo stai riprendendo? Poi lo dagli. Facciamo un conto assolutamente strampalato. Vogliamo dare da mangiare a 5.000 archeologi in Italia. E vogliamo dargli da mangiare a modo di sopravvivenza con un classico 30.000 euro all'anno. Che è uno stipendio? Tu ci stai. Lorti, eh? Vabbè, ci sto comunque qua. Sto guardando aiutatemi a fare i conti stiamo parlando 5.000 per 30.000 faranno 150 milioni all'anno. Non è una cifra è esattamente la ruota dell'F35 direi. È esattamente metà del disavanzo dell'Università di Siena. Questo va tagliato subito. Però è la metà di quello che costa l'Italia. Allora, è una cifra enorme, 150 milioni di euro. Ma non è una cifra impossibile se è divisa per 50 milioni di italiani. Divisa per 50 milioni di italiani 150 milioni di euro vuol dire che ogni italiano deve allocare 3 euro bambini, vecchi, anziani, malati, devono allocare 3 euro. Si tratta di ridistribuire i consumi. Cioè, si tratta di ricentralizzare i consumi. si tratta di mettere il nostro patrimonio culturale innanzitutto al centro dei nostri consumi interni. I nostri consumi interni sono importanti perché non si tratta di dire vendiamo il nostro patrimonio culturale agli altri in termini turistici. Oggi parlavamo dei musei a 25 euro. Ma si tratta di metterlo al centro dei nostri consumi. Se noi riusciamo a rispostare al centro dei nostri consumi il nostro patrimonio culturale e lì per farlo bisogna fare tante cose credo che la strada possa essere una strada interessante. Per far questo bisogna fare delle cose anche nella formazione. Ma ho parlato troppissimo e ve lo dico dopo che cosa penso. Molto veloce poi passo la parola a Franco perché io ho già parlato anche prima. Innanzitutto causa quel giorno che hai preso il megafono non ti sei messo l'esco perché ma non ci avevano più l'età in piazza io mi sono beccato in quella famosa discussione a cui Pituci ha visto ecco un altro che si sveglia ora si riferiva a lui che aveva preso il megafono in piazza in quel momento ma questo non c'è taliente. Come direbbe Beppe Grillo? Va bene a parte questo no a parte dunque a parte la battuta a parte la battuta dunque le istanze di Pintucci che ha tirato fuori con i numeri sono veramente impressionanti poi soprattutto con la lettura finale in cui la maggior parte di queste ditte non sono fatte di archeologi ma sono ditte che hanno preso la certificazione il che vuol dire anche comunque che manca un'autorità che controlla la quale è cambiata proprio regolamenti perché è cambiato devono avere almeno il direttore tecnico che sia un attore per questo il direttore dottorato quindi non sono il direttore va bene per dire comunque per esistere allora delle tante cose che già sono state buttate sul tavolo sia da Alessandro che da Enrico l'ultima in ordine di tempo i musei che citava Enrico allora i musei che citava Enrico almeno nella provincia di Sena funzionano in una maniera che un po' lontanamente ricorda la gran polemica che c'è stata in questi giorni sulla richiesta dei volontari funzionano essenzialmente funzionano essenzialmente con chi decide di fare il servizio civile non c'è un posto non ci sono una serie di musei consorziati o i musei più forti che almeno sono nella provincia di Sena che decidono di assumere delle persone perché un museo non è solo aprire fare le pulizie eccetera il museo deve essere un museo vivo che rinnova i contenuti che fa attività sul territorio che fa attività didattica o alle scodaresche che crea senso e qui mi rilaccio ancora l'antiscolto c'è bisogno di cultura e di patrimonio nelle generazioni che stanno crescendo perché il problema è anche quello è inserirlo fin da piccolo allora intanto è questo sistema che funziona male di gestione perché non si prevede personale specializzata una parola brutta comunque per capirsi formato che riesca a fare questa attività ma si tirano dentro persone che decidono di sbancare momentaneamente un lunario non fino in fondo facendo il servizio civile e questa poi finiti 12 mesi vanno via ne verranno chiamate altri non si sa magari a volte la qualità è buona a volte no non si sa cosa succede e questo tema si è un sistema che si sta un po' riallargando allargando in tutta Italia a macchia d'olio cioè mancano persone che fanno il proprio lavoro dentro questi musei il lavoro per cui sono formati prima cosa altra cosa che Enrico ha tirato fuori il problema grosso è che ci manca veramente la controparte politica degli amministratori perché tuttora ho letto anche recentemente un post di Giuliano De Felice che rimandava una dichiarazione di letta che riportava una dichiarazione di letta e dice no se ancora verranno abbassati i finanziamenti all'università e a beni culturali stavolta mi dimetto quindi l'ottica è già sbagliata perché non è per l'ottica è sbagliata non è che bisogna temere che i soldi vengono nuovamente ridotti per fare formazione istruzione e per studiare valorizzare senza conoscenza sapete non si valorizza i beni culturali il problema è recuperare molto di quello che è già stato tolto negli anni passati perché beni culturali e istruzione sono stati l'esercizio di cassa migliore di tutti i governi che ci sono stati hanno sempre tagliato da lì e poi anche dalla sanità come tutti sappiamo una delle novità recenti che la stampa ha tirato fuori con grande novità è che molte persone rinunciano alle cure mediche perché costano troppo all'assistenza medica quindi i due campi dove si è tagliato sono due campi vitali formazione formazione dei beni culturali e sanità su questi campi credo non si recupera più allora come si può cambiare le cose la formazione e metto un punto un question mark non ho la ricetta allora la formazione la formazione devo dire che è ancora peggiorata non per causa di docente o meno ma ancora peggiorata per il 3 più 2 che è diventato perché il primo 3 più 2 uscivano già da altri anni uscivano persone in beni culturali che facevano molte archeologie facevano molte molte materie potevamo prima che la Germina eliminasse il precariato trasformandolo in disoccupazione avevamo un sacco avevamo molte docenze a contratto di specialismi secondo me importanti perché aprivano anche la testa su quali strumenti mi possono servire ad esempio chi chiamare sui cantieri sapere lo strumento se esiste che tipo di strumento esiste e come lo posso usare o far usare nel momento che mi serve allora quel tipo di università lì basato su questo triennio e poi due anni di laurea specialistica non esiste più perché ormai il triennio è un triennone generalista con alcune diramazioni io non mi ricordo bene quanti esami di archeologia fanno chi fa il triennio ma su quanti esami di archeologia fate voi ora pochissimi capito quindi la parte finale dell'attuazione delle normative eccetera della riforma Germini ha ancora secondo me più impoverito che quelli che saranno gli operatori o gli attori nel panorama dei beni culturali e del patrimonio e questo fra virgolette facendo un po' il rivoluzionario anche se non ho più l'età sembra un disegno come si dice diabolico da spettre molto molto diffuso cioè un abbassamento dei livelli perché questo sta accadendo dei livelli di istruzione e dei livelli di coscienza perché ripeto uno degli obiettivi di un docente anche di archeologia ma il mio che suona non credo non è solo insegnare archeologia insegnare e lavorare è anche formare coscienze e capacità di giudizio nelle persone che frequentano i nostri corsi che si lavorano con noi e che forniamo formazione a questo punto che tipo di formazione vogliamo fare mettiamo e riusciamo a tornare secondo me il nostro oltre più due in passato era bellissimo con un sacco di scambi con un sacco di di scambi anche di esperienze culturali con i docenti che arrivavano da fuori con persone che dovevamo avevamo economia dei beni culturali avevamo persone che insegnavano diritto dei beni culturali agli archeologi cioè avevamo una bellissima una bellissima laurea trinale e una bellissima specialistica però il giocattolino ce l'hanno rotto in qualche modo e sono riuscite anche persone brave da quei corsi poi l'altra cosa a questo punto che tipo di formazione vogliamo e possiamo dare io non rinuncerò mai Alessandro te lo dico con grande sincerità pur avendo ben presenti le cose che dice perché sui cantieri almeno in questa università per fortuna ci stiamo non rinuncerò mai lo dico spesso a lezione a l'insegnamento della costruzione di un modello storico cioè del lavoro intellettuale una delle rivendicazioni che ho sempre beccandomi anche in propri però che ho avuto per i professionisti è paghiamoli anche il lavoro intellettuale che non si ferma è vero va codificato che tipo di schia 2S come le vuoi compilate le scale delle piante che tipo di rilievo tutto ma poi ci vuole anche la codificazione e il pagamento del lavoro intellettuale l'elaborazione del dato che io essendo un carveriano qui c'è un metodologo rilasso lo può dire essendo un programmatico carveriano l'interpretazione la fa solo chi scava perché a tavolino è stata una grande balla che il grande professor Calendini ci ha inventato che dopo si rifà a tavolino guardando tutte le piante questo si taglia no ora questo lasciamo stare questo lasciamo stare bene è carver che ci dà oltre bene va bene allora è il divino Jan che ci dà oltre però io resto un pragmatista carveriano a parte di questo allora al di là di questo aspetto bene tipo di formazione tecnica tipo di formazione tecnica noi non possiamo insegnare a operare in un cantiere urbano con tutti i problemi di un cantiere urbano un piano di sicurezza quello ci vuole poco comunque ci vuole due ore tutti noi facciamo i piani di sicurezza insieme ai nostri uffici facciamo il corso di pronto soccorso visite siamo abbastanza rodati da questo aspetto sappiamo come muoverci però non possiamo insegnare a lavorare nei problemi di un cantiere urbano nella tempistica di un cantiere urbano nella furia di un cantiere urbano perché spesso il pagamento avviene a metri cubi tolti più che quando avviene più che a terra fatta più che a dati di prodotti allora noi possiamo insegnare a fare ci sono prodotti come dicevi te a fare una buona archeologia a fare una buona archeologia quello si a insegnare a un nostro studente o un nostro laureato come veramente si scava quali sono i tempi di uno scavo come si interpreta che è fondamentale ma non troppo di più cioè l'esperienza pratica uno fa su un cantiere poi su un cantiere professionale come un cantiere visto che la maggior parte le imprese sono a Roma perché infatti Roma è stato dal giubileo un po' e Napoli con i lavori velli grossi sono stati grandi cantieri dove sono proliferate le associazioni tant'è vero l'ANA nacque a Napoli sui cantiere napoletani eccetera allora poi lì nel senso sarà lo spirito pratico sarà la preparazione della persona che si adatterà ma io credo che al di là di punte in alto o in basso delle varie università credo che una formazione tanto diversa di quella che facciamo anche dal punto di vista dell'informatica una volta facevamo molto in dettaglio e che adesso purtroppo di nuovo ci vengono tagliate comunque a parte questo credo che una formazione diversa da quella che almeno nell'esperienza dei miei colleghi che conosco non so se la possiamo fare diverso è anche un'altra questione gli archeologi docenti ministero e anche libri professionisti e associazioni devono finalmente imparare non solo a parlare tra sé come giustamente chiamava Enrico e agire come soggetto unico con un obiettivo la valorizzazione del patrimonio che non mi piace sentire la parola il nostro petrolio perché si lega come ha scritto anche Franco di recente ai vecchi giacimenti culturali di De Michele Siana Memoria che tanto danno e di Beltroni e Melani che tanto danno hanno fatto comunque in pratica ma ma a parte questa parentese dobbiamo cioè un altro degli argomenti seri che dobbiamo affrontare e questo deve essere uno sforzo di tutti dalla sovrintendenza professionista dell'università è riuscire a intercettare e a parlare facendo innestando il bisogno di archeologia e di patrimonio alla maggior parte della popolazione di questa penisola che non fa l'archeologo che non fa né professionista né del ministero né della pubblica istruzione perché le imprese che spesso ne facciamo di divulgazione o di conoscenza all'esterno dell'archeologia sono terrificanti terrificanti perché spesso e volentieri non in tutti i casi ma riusciamo a parlare di archeologia in maniera incomprensibile alla maggior parte delle persone ecco il trionfo di programmi alla Giacobbo o di quell'altro che muove tanto le mani del figlio di Piero D'Angelo ecco perché trionfa la messa di Pisa perché parlano alle persone noi dovremmo riuscire a trasformare tutte le nostre ubie da grandi archeologi ma nessuno di noi è un grande archeologo né nel ministero né fra i miei colleghi io sì loro no né fra i miei presenti dovremmo riuscire a trasformare i nostri dati veramente in una storia da raccontare che si è capita e che incuriosisce ancora di più con tutte le politiche che poi possiamo fare di valorizzazione raccontando storie alle persone abbiamo parlato tante volte ora non c'è bisogno di rientrarci e forse qualcosa forse qualcosa cambierebbe non so per quante generazioni possiamo farlo però qualcosa cambierebbe io parlo di uno che viene da una città dove non ha per niente valorizzato il proprio patrimonio peraltro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti